Matteo Tupacchi è una sconfitta che non ci voleva, soprattutto perché la Ragnatela, anche e soprattutto in avvio di primo tempo, era sembrata avere qualcosa in più dell'AMServizi, poi forse col passare dei minuti la squadra si è un po' adagiata su se stessa, è uscito il pressing dell'AMServizi, siete andati sotto, avete provato ad accorciare per due volte le distanze, non siete più riusciti però a tornare in partita. Sì, il problema principale è stato che eravamo otto contati, il nono è arrivato da metà primo tempo, oggi è una partita fondamentale, però le assenze erano tante, non è quello il problema, i ragazzi ci hanno messo tutto, mi dispiace essere arrivato a questo punto con tante assenze perché a completo ce la giocavamo più tranquillamente, io ho più cambi da fare, si è fatto anche bombe per esce, poi i cambi, mi è entrato il capitano che è infortunato, quindi oggi abbiamo messo tutto, non posso dire nulla ragazzi. Assolutamente, tante assenze, adesso questo infortunio corso apparesce, puoi dirci qualcosa in più, le sensazioni? Penso che si sia fatto male, non so cosa sia, però penso che sia una ginocchio, si è girato, quindi penso che sia una distorsione al ginocchio, dispiace perché sono infortunati, siamo Rezzi, Lanzi, Monsiani che è entrato, ma è infortunato, quindi è un periodo d'ascio, quindi mi auguro che la prossima, che rientri almeno qualcuno, e ancora ci crediamo perché il sesto posto ancora è vicino, e fino alla fine abbiamo, a questo punto mancano due partiti, due finali, cerchiamo di fare i più punti possibili. Grazie mille.